Il mare Nostrum da fonte di vita si sta trasformando in un'ecatombe. Sono 2.987 migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. A dirlo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che ha aggiornato i dati con le ultime 100 vittime registrate da domenica sulle coste libiche. I 2.987 migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo dall'inizio del 2015 sono pari a quasi tre quarti dei 4.093 migranti morti in tutto il mondo nel 2015, afferma una nota dell'OIM. Per il Mediterraneo il 2015 è l'anno più letale, anche più del picco del 2011, quando erano stati registrati 1.500 decessi. La maggior parte dei migranti che sono morti e feriti nella nostra regione di annegamento, soffocamento, fame o freddo sono nati in Africa e Medio Oriente. Tra i popoli che maggiormente sono giunti in Calabria, quest'anno si registrano i siriani, il cui paese è devastato da una guerra civile, e gli eritrei che fuggono dal loro paese per scappare dalla disumana repressione del potere, servizio militare e dai lavori forzati, non retribuiti e di durata illimitata.